Grazie a tutti. Finalmente quando si dice liberali non si dicono intellettuali o persone di prestigio ma si dice persone votate alla realizzazione concreta. Abbiamo visto una serie di proposte poi gli altri diranno più particolarmente a me è toccato alla scuola e allora l'occhio che abbiamo messo era sulla figura più maltrattata e più significativa da un certo punto di vista della scuola italiana che sono i capi di istituto. Il cosiddetto dirigente scolastico il quale viene caricato di responsabilità senza avere gli strumenti per realizzarle e per questo noi siamo arrivati ad una figura che in qualche maniera non riesce a portare quello che la parte nazionale dovrebbe dare alla scuola e nello stesso tempo negli enti locali non riesce a avere l'autorità sufficiente attraverso degli strumenti. Lei diceva che le parlava di manager addirittura che hanno le competenze. Sì ma sono ex insegnanti che spesso e volentieri per fare una progressione di carriera che all'interno della scuola non c'è diventano manager ma i manager non si inventano sulla carta. I DENERGY si legittimano e la proposta nostra è proprio quella di farli eleggere dalla comunità a cominciare dalle famiglie, dagli studenti, dai cittadini di quel luogo e quel luogo guarderà e darà la possibilità al manager diciamo in quel punto che avrà gli strumenti per fare o non fare e avrà chi lo ha votato anche la libertà di mandarlo via. Perfetto ringraziamo Stefania Fuscagni presidente di Società Libera e soprattutto www.societallibera.org giusto? Bene, punto org. Grazie Riccardo Cristiano Liberi TV